Ancora polemica da l'IFE dopo l'approvazione del dissesto finanziario del Comune, città spaccata fra favorevoli e contrari e poi le concrete possibilità di atti illegittimi prodotti nella seconda convocazione, secondo alcuni, ma anche una vistosa spaccatura all'interno della maggioranza con quattro dissidenti. Questa volta è il consigliere di maggioranza Angelo Gianmatteo in una posizione critica ad accusare senza sé e senza ma la gestione Cirioli fatta, secondo lui, per pochi intimi e quindi priva di qualsiasi trasparenza e di decisioni avvenute a porte chiuse e di conseguenza la mancanza di coinvolgimento di tutti i consiglieri. Ma sentiamolo in questa lunga intervista che ci ha rilasciato poche ore fa, quindi pregherei la regia di mandarla in onda. Allora, come maggioranza critica, che cosa pensate di fare dopo l'approvazione del dissesto e dopo che si è parlato ampiamente di una delibera che probabilmente non sarà legittima? Allora, buonasera. Noi stiamo aspettando che l'ufficio pubblichi la delibera del Consiglio Comunale che si è svolto l'8 aprile perché sembra che a detta degli esperti di chi si occupa di amministrazione questa delibera non sia legittima perché è praticamente viziata dal fatto che il numero legale esisteva nel momento in cui il sindaco lo dichiarava decaduto. Poi successivamente doveva essere fatto l'appello e l'appello non è stato fatto, quindi si è sciolta la seduta in modo irrituale, quindi sicuramente ci sono una procedura illegittima. Ecco, secondo voi che cosa pensate di fare? Sarà impugnata questa delibera? Adesso aspettiamo la pubblicazione perché comunque dovrà essere pubblicata qualcosa riguardante quella seduta, non è che la seduta, la seduta si è tenuta l'8 aprile. Noi eravamo presenti, abbiamo fatto le nostre proposte, abbiamo chiesto un rinvio, abbiamo detto, io ho proposto un emendamento alla delibera di dissesto, un emendamento per proporre una delibera di predissesto perché a nostro avviso si poteva evitare di discutere del dissesto così come è stato fatto, così come è stato proposto, ma a nostro avviso era più ragionevole proporre un riequilibrio del bilancio o un predissesto perché gli effetti che si andavano a produrre erano gli stessi per quanto riguarda sia bloccare le azioni legali di vignoramento verso la tesoreria del comune, sia per quello che riguardava tutto il, diciamo così, i procedimenti che sono in corso, però nello stesso tempo si evitava di portare al massimo le tariffe, le aliquide delle tassi comunali. Senta, il fatto che il sindaco abbia poi revocato le deleghe a lei come assessore, questo complica un po' il cammino? Io ho sempre svolto il mio ruolo di consigliere con e senza deleghe perché io da quando sono stato eletto ho sempre dato il massimo per questo comune ed è questo lo devono giudicare gli alifani. Il sindaco ha fatto quello che era nel suo potere di fare, cioè revocare le deleghe. Io non gli condanno niente, lui oggi è sindaco e ha questo potere, però forse ha dimenticato che se è sindaco e anche grazie ai miei voti, grazie ai voti di questo gruppo che lui ha abbandonato, non ha tenuto in considerazione, non ha mai chiamato a decidere. Si è sempre parlato, durante la campagna elettorale si è parlato di trasparenza e di collegialità, non c'è stata, se non i primi due o tre mesi. Devo dire che i primi due o tre mesi c'era questo clima, c'era questa voglia di fare che sembrava che le cose funzionassero bene. Poi improvvisamente si sono chiuse le porte, si sono chiusi nelle stanze con i funzionari che decidevano cosa fare, con il segretario comunale che dettava le regole, le porte chiuse, ogni qualvolta un consigliere cercava di capire, non si poteva capire. Noi sostanzialmente, io personalmente, ho solo chiesto di capire, ho detto, io sono qui da tanti anni, so che il comune soffre, ha delle sofferenze, sicuramente ha dei debiti, ma non credo che siano questi che voi oggi state così. Vediamoli, guardiamoli insieme, può darsi che ci siano delle cose che voi non sapete. Non è stato possibile avere nessun tipo di confronto, nessun tipo di dialogo, anche quando alcuni amici avevano chiesto un incontro per meglio capire, per cercare di vedere i numeri, per cercare, ancora oggi, ancora oggi, per loro stessa ammissione, non c'è un elenco di creditori preciso, puntuale, analitico di che cosa avanzano e chi avanza soldi, che avanza dal comune di Alife. L'ultima domanda, quale sarà il vostro futuro nell'ambito della maggioranza? Questo adesso dipenderà da molte cose, dipenderà dalla volontà. Noi certamente quello che mettiamo avanti a tutto è l'interesse di Alife. L'unico obiettivo è cercare di fare bene per Alife. L'abbiamo sempre fatto e i quattro consiglieri che in questo momento sono critici con la maggioranza del sindaco hanno come unico obiettivo fare il bene di Alife. Io ovviamente questo che sto parlando a titolo personale non parlo a nome degli altri, io parlo per me. Sicuramente se ci sarà voglia di fare, di portare avanti ancora, questo tipo di politica a porte chiuse, senza coinvolgere nessuno, senza coinvolgere chi è stato votato per decidere e per dare il proprio contributo, sicuramente non potrà esserci futuro. Se invece si può cambiare rotta, si può rivedere un atteggiamento che io sinceramente non capisco. Un atteggiamento che va contro le persone, perché oggi fare il di stesso, fatto in questo modo, significa andare contro le persone, andare contro gli alifani. Io mi sono ribellato anche a qualche proposta di giunta che praticamente loro hanno adottato senza nemmeno consultarci. Io non credo che un consigliere che abbia dato un contributo così determinante alla vittoria di questa lista non debbano essere consultati prima di fare delle proposte di giunta che coinvolgono tutto il Paese, che coinvolgono tutta la cittadinanza. Io credo che quantomeno chi è stato eletto debba essere sentito, debba confrontarsi sui problemi che ti vanno ad affrontare. Cosa che non è stata fatta.